Mi si è moccionata? Ciao, sono Anna, la mamma di un fantastico bimbo entusiasta del suo computeraio che ormai scrive lettere ovunque, nel cielo, nella pasta, tra i suoi giochi, con le coperte, scrive lettere ovunque è entusiasta del metodo, tanto di merito al computeraio e anche alla maestra che ha seguito le regole del computeraio diamo a Cesare qualche di Cesare Cosa ne pensi di questo metodo? È fantastico, è fantastico con l'entusiasmo che infonde nei nostri bimbi, il loro modo di approcciare ormai leggono tutto, deve ancora cominciare la scuola elementare, già legge tutte le prescrizioni che ci sono tutte le ricette, va su internet, va su Youtube da solo, non so se questo è un bene o male e fa davvero tutto Senza dare l'impressione di essere costretto Ma assolutamente no, anzi, ruba libri alla mamma, al papà e a tutti quelli che ci sono intorno Bene, grazie Grazie